Il 2 gennaio è decollato un nuovo ricometro, ossia l'indicatore ISEE, che misura la situazione economica del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate. Affinché l'Inps possa rilasciare l'ISEE, è necessario che il richiedente compiri la dichiarazione sostitutiva unica che contiene informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale. Nella maggior parte dei casi è sufficiente reperire i dati richiesti dal minimodello. Ai fini ISEE, il nucleo familiare della dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della dichiarazione. Salvo casi particolari, i coniugi e i figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo. Vanno inoltre aggiunte le altre persone presenti sullo stato di famiglia. I figli maggioregni non conviventi con i genitori e al loro carico ai fini IRPEF, se non sono coniugati e non hanno figli, fanno parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori da lui identificato. Per quanto riguarda l'ISEE Universitav, ha precisato che lo studente non convivente nel nucleo familiare di origine, che non risulti autonomo o residente fuori casa da almeno due anni e con reddito non superiore a 6.000 euro, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Qualora siano presenti persone con disabilità o non autosufficienti, è necessario entrare in possesso della certificazione che attessi la condizione di disagio. Servono inoltre le fatture relative al pagamento delle spese supportate nel 2014 per l'assistenza personale prestata da enti, ma attenzione, non occorre riportare alcun dato riguardante i costi sostenuti per le badanti, in quanto viene rilevato direttamente dall'INPS.